Attenzione perché Gianni Russo legge il giornale. Per nulla interessato dalla performance dei Pinky Ballini, Gianni Russo invece dimostra tutto il suo interesse per le notizie della New York che conta. Lui, abile nella lettura dell'inglese moderno, trova anche il tempo di fare i cruciverba. Gianni Russo, fai vedere la foto finale del giornale? È un film che vedrete su tutti gli schermi italiani, soltanto a Natale, qui a New York, noi lo vedremo stasera. Si chiama True Blood, dalla traduzione di Gianni Russo. Tradugi Gianni Russo. Attenzione che hai un pezzo di mollica di sandwich che ti sei mangiato. Lasciamo il forte Gianni Russo. Andiamo di nuovo dai musicisti. Andiamo 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 dai musicisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi l'avrebbe mai detto? Anche qui a New York, a Washington Square, guardate chi c'è. Proprio lui, Garibaldi. Chi l'avrebbe mai detto? L'eroe dei due mondi è a New York. E che c'è a secca? Attenzione, la New York City Parks ci sta seguendo. Attenzione, hanno capito che siamo elementi poco raccomandabili, soprattutto già nei russi. E quindi adesso mi confischeranno la macchinetta. Ma siamo noi a seguire loro, non al contrario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.